Milan-Inter 3-2, derby perso il giorno dopo, cerchiamo di analizzarlo a mente fredda, ma vi ammetto ragazze e amiche e amici di Passione Inter che ho ancora tantissima rabbia dentro. In questo nuovo episodio cercheremo di condensare il tutto in dieci minuti, un discorso che secondo me potrebbe durare diverse ore, ma potrebbe allo stesso tempo essere riassunto in pochissimi secondi. E per farlo vorrei partire da un'immagine, ma prima vi invito gentilmente a lasciare un bel mi piace e a iscrivervi al nostro canale per non perdere nessun contenuto sul mondo Inter. Come dicevo, voglio partire da un'immagine, è l'immagine che secondo me rappresenta il momento che ha deciso il maledetto derby di ieri sera. Si tratta del 2-1 del Milan, del gol di Giroud, e voglio partire però prima dal possesso di Rafa Leao. Come vedete lì dall'immagine, per chi ci sta seguendo in video, Rafa Leao è pressato da quattro giocatori dell'Inter. Quattro contro uno. Abbiamo Dunfris, Barella, Brozovic e Skriniar. Celanoglu, un po' più in basso, è occupato a marcare Decatelare, mentre Defray e Bastoni sono incastrati in mezzo a Giroud. Sono sette giocatori nero-azzurri contro tre del Milan. Nessuno può pensare che da questa azione il Milan possa fare gol. E invece lo fa. Lo fa come il gol e parliamo anche del gol. Perché il gol arriva da un tiro di Giroud molto, molto parabile, secondo me. Non era una saetta, anzi. Ed è una parata che Andaluc può tranquillamente fare, anche se sorpreso, anche se coperto. Perché è un tiro veramente banale, oserei dire. Giroud è molto bravo a smarcarsi da Defray e Bastoni, ma il tiro è parabile. Meno bravi invece sono Defray e Bastoni, con Defray e lo stesso Bastoni che lasciano tantissimo campo a Giroud. Questo dopo il derby perso l'anno scorso per gli errori di Defray che lascia tanto spazio a Giroud. Una cosa inaccettabile. Un'addormentata difensiva, badate bene però, non solo dei difensori centrali. Perché ormai la fase difensiva non siamo più negli anni 50-60 che la svolgono soltanto i difensori, i liberi, i fruidificanti. La svolge l'intera squadra, a partire dagli attaccanti che devono rientrare, dai centrocampisti che devono dare manforte ai difensori, dal pressing che l'Inter deve fare sui giocatori del Milan, fino all'attenzione che i centrali devono avere quando la palla arriva nella propria area di rigore. Tutte queste componenti sono spaventosamente mancate sul 2-1 del Milan. Tra l'altro 2-1 che arrivava da praticamente 20, un quarto d'ora di Inter che non esisteva. Un Inter che è entrato in campo con l'atteggiamento sbagliato. Ed è questo il punto, la differenza. Ciò che poi ha fatto vincere il Milan ieri sera invece dell'Inter è l'atteggiamento che ha avuto la squadra di Inzaghi. Ed è la componente che secondo me oggi, ma io lo dicevo anche prima che iniziasse la stagione, il motivo per cui io metto davanti il Milan rispetto all'Inter. Il motivo per cui il Milan ad oggi, 4 settembre, è più forte dell'Inter. L'atteggiamento. L'Inter fa i primi 25 minuti in modo egregio. Fa la partita che deve fare, capisce che non deve andare a pressare, capisce che deve raddoppiare su Raffaele A, l'elemento più pericoloso del Milan. Milan fa un grandissimo gol su una grandissima azione, un classico gol dell'Inter di Inzaghi con Andanovic che passa la palla direttamente a Correa. Correa che riesce a smarcarsi, ad appoggiare all'Otaro che fa un buonissimo lavoro, spalla alla porta, l'appoggia per Correa. E poi il bellissimo inserimento di Marcello Brozovic. Nulla da dire su quel gol, ma poi da quel momento fino al 3-2, al 2-3 meglio di Edin Dzeko, l'Inter non si è più vista. Ed è qui che entrano le colpe di Inzaghi. Io l'ho definita, quella di ieri sera, la sconfitta di tutti. Perché come vi ho fatto vedere prima, quell'atteggiamento della difesa, quell'atteggiamento nel pressing, quello ormai ingiudicabile e indifendibile secondo me, Samir Andanovic, fanno parte della squadra dei singoli. Inzaghi non decide che fra i bastoni si debbano addormentare in quel momento. Inzaghi non decide che Andanovic debba andare giù con quella lentezza o che debba essere sorpreso dal tiro di Giroud. Però Inzaghi può incidere come sull'atteggiamento. Che ripeto, ieri, dopo il pareggio del Milan, 1-1 di Leao, tra l'altro, arrivato grazie a un errore incredibile dell'Inter, non solo di Cialanoglu, la giocata di Cialanoglu, se uno tra De Frai e Correa ci fosse arrivato, sarebbe stata molto molto importante perché avrebbe di fatto lanciato l'Inter verso la porta del Milan. Possiamo definire una giocata rischiosa, sicuramente, ma io mi sono rivisto la partita stamattina e secondo me le colpe invece sono di De Frai e Correa che non riescono a comunicare e non riescono a dire chi va a prendere quella palla di Cialanoglu, che ripeto, concettualmente, è sì pericolosa, ma giusta, perché può lanciare l'Inter verso la porta del Milan. Dicevo, 1-1 del Milan che è arrivato così, con questo errore di Cialanoglu, De Frai e Correa, un intero errore, non solo di un singolo, e da quel momento l'Inter è sparita. All'intervallo io mi aspettavo che Simone Inzaghi cambiasse l'Inter, nei singoli, con i cambi, ma cambiasse soprattutto l'atteggiamento, l'aspetto mentale dell'Inter e questo è mancato, questo è mancato e invece in questo aspetto un allenatore può incidere e come? Faccio un esempio, Mourinho, Juventus-Roma 1-1 di qualche giorno fa, la Juventus gioca molto meglio della Roma, anzi la Roma gioca malissimo, all'intervallo Mourinho si fa evidentemente sentire, perché poi la Roma rientra molto bene in campo, tanto che poi Mourinho nel post-partita ha detto, io nello spogliatoio ho detto ai miei ragazzi, che mi vergognavo di essere un allenatore della squadra del genere, e io mi chiedo, Inzaghi l'ha fatto? Inzaghi ha fatto capire la squadra che non c'era solo da cambiare aspetti tattici, ma anche un atteggiamento, ed è qui che voglio dare le colpe di Inzaghi, l'atteggiamento, perché su questo può incidere. Tanti poi parlano dell'effetto Conte che è svanito, sicuramente io da questo momento in poi, ma già da ieri sera ovviamente, mi aspetto molto di più dai senatori, i giocatori che con Conte c'erano e hanno vinto uno scudetto, parlo di Barella, parlo della difesa e della porta, quella difesa che oggi in cinque partite ha preso otto gol, ha vinto uno scudetto. Parlo di Lautaro, parlo del cetrocampo, Barella, Brozovic, insomma parlo di questi senatori che devono prendere in mano l'Inter, che devono giocare con personalità, e non devono tremare quando c'è una prima difficoltà. Dicevo prima, il Milan è più forte dell'Inter, sì per la personalità, per l'atteggiamento. I senatori, l'intera squadra dell'Inter, non riesce a reagire in modo positivo a una difficoltà. Lo abbiamo visto l'anno scorso, lo abbiamo visto quest'anno con la sconfitta con la Lazio, in parte secondo me l'avevamo vista anche a Lecce, dopo l'1-1 del Lecce l'Inter ha fatto molto, molto fatica a segnare il 2-1 che di fatto è arrivato all'ultimo secondo disponibile, e lì c'è da elogiare la squadra che ci ha creduto fino all'ultimo, ma di fatto comunque non c'è stata un'ottima reazione. Con la Lazio non c'è neanche bisogno di approfondire nel discorso, ne abbiamo già parlato, è mancata la personalità, l'atteggiamento, un'Inter spenta, e anche ieri. E in questo si può dire che l'effetto Conte sia svanito? Io non voglio parlare di effetto Conte, perché una piccola speranza che ho dopo questo inizio disastroso dell'Inter in campionato, che di fatto ha vinto contro solo squadre piccole, ma appena il livello si è alzato si è dimostrata veramente inferiore e insicura dei propri mezzi, e che proprio con Conte, proprio nella stagione in cui l'Inter vinse poi lo scudetto, in cinque partite avevamo preso otto gol, esattamente come quest'anno, anche se lì avevamo perso soltanto una partita. E questa per me è una piccola speranza, perché vuol dire che il tempo c'è per mettere qualcosa a posto, per cambiare, e questa è la parola chiave, c'è bisogno di cambiare, di fare anche scelte impopolari. Sono molto duro in questo video, perché ovviamente si tratta di un derby perso, ma perché ormai si tratta di errori e di problemi di cui parliamo praticamente da un anno. Andanovic, secondo me, fa la differenza un portiere? Sì. E Andanovic non sta facendo la differenza all'Inter in questo momento. Fa il possibile, ma non fa l'impossibile come invece ieri sera Mike Magnana ha fatto. Perché anche il portiere, la differenza di due portieri, conta poi nel valore di una squadra. Noi guardiamo gli undici dell'Inter e diciamo sono più forti del Milan, ma intanto hanno un portiere che può incidere sulle partite. E sto parlando ovviamente di Mike Magnana. L'Inter non ha un portiere che incide nelle partite, sulle partite. E se lo fa, lo fa soltanto tre partite all'anno, e non lo fa con la stessa continuità che poi meriterebbe un portiere di una squadra forte come l'Inter. L'anno scorso il Real Madrid ha vinto con l'atteggiamento. Sicuramente il Real Madrid non era più forte del Manchester City. Aveva un portiere fortissimo, aveva un attaccante fortissimo, ma soprattutto aveva un atteggiamento. Un atteggiamento positivo. Un atteggiamento destinato al crederci fino all'ultimo. E l'Inter non ce l'ha. L'Inter non ha la capacità di reagire di fronte alle difficoltà. Non è capace Inzaghi, non è stato capace fino ad oggi, e io spero che Inzaghi da oggi in poi sia capace di infondere questa sicurezza alla squadra. Non è capace la squadra in sé a reagire in momenti di difficoltà. Allora Inzaghi deve cambiare qualcosa, deve fare le scelte impopolari. Parto io dicendo ovviamente un anno al posto di Andanovic, perché abbiamo un bisogno di un portiere che non solo sappia giocare con i piedi, ma che poi sappia incidere sulle partite. Sempre parlando di Conte, se ricordate il secondo derby della seconda stagione di Conte, quel 3-0 con il gol di Lukaku, che poi ha deciso quella stagione, ha deciso lo scudetto per l'Inter. Quella vittoria è arrivata sì grazie ai gol di Lukaku, di Lautaro, a una grandissima Inter, ma è arrivata anche grazie alle parate che lo stesso Andanovic fece su Ibrahimovic. Quelle due o tre parate molto importanti che servirono all'Inter per non far riaprire la partita al Milan. E anche lì aveva contato il portiere. Ed è per questo che vi dico che Inzaghi deve cambiare. E dico io, ho un anno al posto di Andanovic, ma deve cambiare anche nel sistema difensivo. Non penso sia soltanto una condizione fisica, perché alla quinta giornata, arrivati alla quinta giornata a parlare di condizione fisica, sarebbe molto grave, perché vorrebbe dire che il team atletico dello staff di Inzaghi ha lavorato molto male. E io questo non lo accetto e non lo voglio nemmeno pensare. E allora do la colpa all'aspetto mentale. Questo è l'analisi. Ragazzi, su Milan Inter sono andato molto a braccio, perché ho cercato anche di analizzare dati, di vedere dove il Milan era stato superiore, ma secondo me la partita di ieri sera è stata incisa soprattutto dall'atteggiamento e dall'aspetto mentale, come vi ho più volte sottolineato in questo video. Non ho molto altro da dire. Io spero soltanto, appunto, nella speranza che comunque c'è tempo per cambiare, ma Inzaghi deve farlo e deve farlo subito, prima che qualcuno pensi per lui di cambiare, dico società e dirigenza, anche se, ripeto, esonerare Inzaghi in questo momento non penso proprio che sia la scelta giusta, anzi creerebbe molta confusione nel gruppo squadra e non penso nemmeno che se lo meriti poi l'esonora sui Morenzaghi, visto che comunque l'anno scorso ha vinto due trofei, è andato a un soffio dal vincere lo scudetto e comunque quest'anno ha ancora tempo per cambiare. Allora diamoglielo fiducia a questa Inter, però c'è da cambiare, non c'è molto altro da aggiungere. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa pensate della partita di sera, della mia analisi. Ripeto, non ho visto i dati, ma ieri, secondo me, ha inciso l'atteggiamento come vi ho fatto anche poi vedere negli screen del 2-1 del Milan. Detto questo, mercoledì ci aspetta già un impegno importantissimo contro la squadra sicuramente più forte del Milan. L'anno scorso l'Inter ha fatto bene in Champions League e quindi vediamo adesso se saprà reagire a questa difficoltà. La certezza è che sicuramente da oggi in poi sarà in salita e c'è da lavorare, c'è da lavorare tantissimo. Detto questo, fatemi sapere, ragazzi, nei commenti cosa pensate del derby di ieri sera, da dove deve ripartire l'Inter, cosa c'è da cambiare, parlatemi anche dei singoli, Andanovic, di tutti quelli che volete, ma ripeto, secondo me, è un problema adesso della squadra e il gruppo deve vedere cosa fare insieme a Inzaghi. Detto questo, se ci stai seguendo da podcast, vi lascio il link in descrizione di un episodio molto interessante realizzato dal nostro Lorenzo Polimanti sulle sanzioni UEFA. Vi spieghiamo un po' tutto quello che riguarda l'Inter, che sanzioni ha adesso l'Inter e cosa poi rischierà l'Inter in futuro. Se invece ci stai seguendo da video, clicca qui per recuperare l'episodio.